Tutto pronto per l'avvio dei pronto soccorso estivi in 21 località costiere. L'asla di Lecce lancia un avviso pubblico per reclutare medici, autisti e soccorritori. Con la stagione turistica alle porte, soprattutto nelle località che registrano un notevole afflusso di visitatori, la Regione Puglia ha predisposto, come ogni anno, una rete efficiente per garantire l'assistenza sanitaria a bagnanti e turisti che affollano le nostre spiagge, nel periodo compreso dal 5 giugno al 15 settembre. La gente li conosce come pronto soccorso estivi. In realtà, la programmazione che l'asla ha deliberato nei giorni scorsi parla di assistenza sanitaria estiva per turisti. In effetti, svolgono un ruolo che non riguarda soltanto l'emergenza urgenza. I punti di assistenza sanitaria riguardano quest'anno le località balneari di Casalabate, Torre Chianca, Frigole, San Cataldo, San Foca, Torre dell'Orso, Torre Lapillo, Santa Maria Albagno, Sant'Isidoro, Otranto, Santa Cesarea, Castro, Andrano, Tricase Porto, Santa Maria di Leuca, Torre San Giovanni, Torre Vado, Lido Marini, Gallipoli, Torre Suda e Marina di Mancaversa. I comuni interessati forniranno il locale completo di suppellettili, mentre l'asla provvederà a dotare la struttura delle attrezzature medicali per il funzionamento della stessa. Oltre al reclutamento dei medici, che saranno selezionati in base a criteri funzionali e professionali, l'asla provvederà a reclutare anche autisti e soccorritori per le ambulanze di supporto al servizio 118. La direzione dell'asla inoltre ha incaricato l'area del patrimonio per la fornitura al servizio di assistenza per turisti di 12 ambulanze complete di autisti soccorritori e soccorritori in servizio H24. Ambulanze destinate alle postazioni di Casalabate, Torre Chianca, San Cataldo, San Foca, Torre Lapillo, Santa Maria Albagno, Sant'Isidoro, Villaggio con Caspecchiulla, Torre San Giovanni, Torre Vado, Gallipoli e Otranto. In base all'accordo tra le regioni, il servizio di assistenza per i cittadini non pugliesi sarà a carico dell'assistito. L'organizzazione e la vigilanza sulla funzionalità dei presidi sanitari sarà a cura dei distretti sociosanitari di competenza. Il servizio attivato da laser di Lecce si estende quindi in maniera capillare sull'intera costa salentina. 21 sedi nelle quali sarà possibile ricevere assistenza sanitaria e nelle quali si potrà disporre di autoambulanze. Del resto, i circa 830 chilometri di costa pugliese fanno della Puglia la terza regione italiana per sviluppo costiero dopo le due grandi isole Sicilia e Sardegna. Peraltro, più del 92% dell'intera costa regionale, pari a 693 chilometri, è balneabile, secondo i dati contenuti nel rapporto sulla qualità delle acque di balneazione redatto dal Ministero della Salute. Degli 834 chilometri complessivi di costa, circa 200 ricadono nella provincia di Lecce. È chiaro quindi che con l'arrivo dei turisti che scelgono il mare del Salento per trascorrere le vacanze, i pronto soccorso estivi diventano delle postazioni strategiche di fondamentale importanza per gestire e contenere le emergenze estive. Intanto si preannunciano nuove assunzioni nell'ASL. La delibera, che dovrebbe essere approvata dalla Giunta a giorni, prevede l'utilizzo di circa 60 milioni di euro per sbloccare le deroghe ferme da due anni e consentirà l'assunzione di circa 1300 tra medici, infermieri e operatori sociosanitari. La notizia, diffusa nei giorni scorsi dal quotidiano La Repubblica, è stata rimbalzata dal direttore del Dipartimento della Salute, Giovanni Gorgoni. La vitale boccata di ossigeno consentirà ai vertici dell'ASL di affrontare l'estate alle porte con meno affanno. È stato stimato che, considerato un importo medio di circa 45 mila euro per ogni assunzione, dovrebbero entrare in corsia almeno 1300 unità. Nei giorni scorsi i direttori generali sono stati convocati a Bari per fare il punto delle singole esigenze e stabilire l'entità delle fette da destinare a ciascuna delle sei ASL pugliesi. Si stima che all'ASL di Lecce dovrebbero arrivare non meno di 10 milioni di euro. Parliamo quindi di circa 230 nuove assunzioni. Solo al Vito Fazzi serve personale al reparto di ortopedia, che in estate dovrà affrontare l'aumento della traumatologia della strada. Al pronto soccorso, dove il primario Silvano Fracella è rimasto con soli sette medici, mentre il direttore generale Silvana Melli ha espresso la necessità di tenere aperti due ambulatori dei codici bianchi e verdi. Ma non va meglio ai reparti di immunologia trasfusionale, dove la raccolta di sangue festiva segna il passo, o la neurologia che non riesce a dimettere i pazienti per mancanza di posti nella riabilitazione. Proprio Giovanni Gorgoni, di recente, ha stimato che nell'area dell'emergenza urgenza servono in Puglia 770 medici, 870 infermieri e 800 operatori sociosanitari. Il personale di nuova assunzione verrà utilizzato dall'ASL per le esigenze indicate dall'azienda, senza alcun vincolo da parte della Regione. L'unica prescrizione, il limite di spesa, deve essere inferiore dell'1,4% rispetto a quello del 2004. L'Università del Salento ha il solo interesse di rilanciare al meglio l'area di Acquatina, mettendo a valore le varie competenze istituzionali e lavorando così per far crescere il territorio. Dal rettore dell'Ateneo Salentino, Vincenzo Zara, un ulteriore invito a sottoscrivere celermente il protocollo d'intesa riguardante il bacino nell'area di Frigole. Due anni fa siamo partiti in presenza degli altri interlocutori istituzionali da un'ipotesi di progetto che prevedeva la partecipazione dei privati per il rilancio del bacino. In quell'occasione si convenne sulla necessità di risolvere innanzitutto i nodi giuridico-amministrativi relativi all'area, la possibilità di estendere i termini della concessione, il confine tra acque lacustri e marine e le competenze di Agenzia del Demanio dello Stato e Marittimo e quindi di Regione Comune. Proprio quest'impostazione, sottolinea Zara, è stata confermata alla fine dello scorso anno, quando siamo stati d'accordo con Regione Puglia e Comune di Lecce sull'opportunità di approvare un protocollo d'intesa con l'obiettivo di elaborare in tempi certi e definiti un progetto congiunto e integrato a carattere multifattoriale che contempli aspetti scientifici di valorizzazione della ricerca, di sviluppo economico sostenibile e di tutela ambientale. Si tratta ora, in sostanza, di prendere formalmente un impegno politico con la firma del protocollo che prevede un comitato direttivo costituito da tre rappresentanti di ciascun ente con il compito di stilare una prima bozza di progetto entro tre mesi. In questi termini di ampio respiro e che non precludono nulla sulle varie implicazioni del progetto, nell'ultima riunione dello scorso febbraio siamo stati tutti d'accordo. Per quanto riguarda la Regione Puglia c'è stata in questi anni una proficua collaborazione e non saranno certamente i disguidi tecnici a creare difficoltà. Per quel che riguarda il Comune di Lecce non ci sarebbe alcuna difficoltà da parte nostra a trovare un accordo conclusivo. Propongo quindi, conclude Zara, di stabilire subito una data per la sottoscrizione pubblica di un testo condiviso. Il protocollo d'intesa contiene già l'interesse comune ad un progetto di rilancio e valorizzazione duratura dell'area, inclusa la partecipazione di privati e quindi anche al di là delle attività di ricerca scientifica. L'Università del Salento sta chiedendo a docenti e personale uno sforzo particolare per concentrare gli sforzi progettuali sulla crescita del territorio, pensando al presente e al futuro degli studenti e delle loro famiglie. È importante per questo un rapporto costruttivo con gli enti che rappresentano i cittadini. La posta in gioco è la stessa, far crescere la Puglia, il Salento e Lecce. Sabrina Misseri resta in carcere. Il Tribunale ha respinto la richiesta di arresti domiciliari in comunità. Fallisce dunque l'ennesimo tentativo di uscire dalla cella. Sabrina Misseri è stata condannata all'ergastolo in primo e secondo grado con la madre Cosima Serrano per l'omicidio di Sara Scazzi, la quindicenne di Avetrana, uccisa e gettata in un pozzo il 26 agosto 2010. Il Tribunale del Riesame ha respinto l'atto di appello presentato dalla difesa di Sabrina contro la decisione della Corte d'Assise del 4 aprile scorso che aveva respinto la richiesta di concessione degli arresti domiciliari in una comunità diocesana di Fabriano. L'impugnativa era stata accompagnata da una memoria difensiva degli avvocati Franco Coppi e Nicola Marseglia. Nel provvedimento di rigetto era stato ribadito che la richiesta misura degli arresti domiciliari non risultava adeguata a contenere i prevedibili impulsi aggressivi della Misseri. A fuoco nella notte altre quattro auto a Lecce. L'incendio è divampato in piazzale Cuneo intorno alle 4 del mattino. Non sono chiare le ragioni che hanno causato il rogo ma si sospetta l'origine dolosa. Le fiamme sono partite da una Chevrolet Spark di proprietà di una cinquantenne residente in zona. L'auto è andata completamente distrutta. Da qui il fuoco si è steso coinvolgendo altri veicoli parcheggiati accanto. Una Fiat Punto di una 62enne, una Toyota Yaris di un 31enne e una Fiat Panda di un 37enne. Tutte seriamente danneggiate. Il calore sprigionato ha anche deformato alcuni cassonetti di plastica per la raccolta differenziata collocati nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Non sono stati rinvenuti elementi che facciano risalire al dolo. Le indagini sono affidate ai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Lecce. L'aspetto preoccupante è che simili episodi stanno avvenendo con una frequenza impressionante in ogni zona della provincia di Lecce. E non sempre è facile accertare l'origine dolosa in assenza di bottiglie incendiarie, taniche o tracce di liquido infiammabile. Ladri scatenati in provincia di Lecce. Con passamontagna e pistola fanno irruzione in un supermercato di Leverano e fuggono col bottino. I banditi hanno messo a segno il loro piano ieri sera all'orario di chiusura. In due armati e col volto coperto sono entrati improvvisamente nel market P&G situato in via Pompilio Cazzella. Hanno prima immobilizzato una commessa e quindi hanno sottratto il denaro contenuto all'interno del registratore di cassa per un valore ancora in fase di quantificazione. Poi si sono dileguati a bordo di una Fiat Uno, risultato rubata, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, assieme ai colleghi del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Campi Salentina, che hanno avviato le indagini. Elementi utili potranno pervenire dalla visione dei filmati del sistema di videosorveglianza presente nel locale. Il negozio era stato già preso di mira nell'estate del 2012. Sono stati costretti invece a fuggire a mani vuote i ladri che la notte scorsa hanno assaltato il negozio di abbigliamento Corso Portaluce 31 di Galatina. Attorno alle quattro, con l'ausilio di mazze e bastoni, hanno tentato di sfondare la vetrina per rubare capi griffati, ma la loro azione ha fatto scattare l'allarme collegato all'istituto di vigilanza Fidelpol. A quel punto si sono dati alla fuga senza lasciare tracce. Sul posto, oltre ai vigilantes, sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Gallipoli, che hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Sembra che ad agire siamo stati tre individui col volto coperto da passamontagna, poi saliti a bordo di un Alfa Romeo Giulietta di color amaranto. E' tornato a riunirsi ieri mattina, in seduta straordinaria, nell'Aula Consiliare di Palazzo dei Celestini di Lecce, il Consiglio Provinciale, convocato per esaminare 11 punti all'ordine del giorno. La Sise Consiliare ha approvato all'unanimità la rinegoziazione dei prestiti ordinari della Cassa Depositi e Prestiti. Nello specifico saranno rinegoziati 185 mutui per un importo complessivo di debito residuo, al 1 gennaio 2016, di 61 milioni e 800 mila euro, che comporterà il non pagamento della quota capitale nel 2016 per circa un milione di euro e lo spostamento della quota interessi di circa 3 milioni di euro, dal 31-12-2016 al 31 gennaio 2017. Sono stati nominati, inoltre, rappresentanti della provincia di Lecce in seno ad alcuni organismi. ha rinnovato il Comitato Tecnico Provinciale per la tutela faunistica venatoria con la designazione del Consigliere Provinciale Giovanni Tundo per la maggioranza e di Sergio Signore per la minoranza. Il Consigliere Provinciale Renato Stabile, invece, è stato nominato quale componente di gestione dell'ambito territoriale di Caccia, provincia di Lecce. Sempre all'unanimità, approvata la deliberazione riguardante il diritto di prelazione per l'acquisizione dei locali siti in via degli Antoglietta a Lecce, presso il Palazzo dei Cassinesi, al prezzo di circa 68 mila euro. Infine è stata discussa e votata all'unanimità la mozione presentata dal Consigliere Provinciale Roberto Martella, avente ad oggetto Puglia tutto gas. Con questa mozione l'assise consigliare impegna il Presidente della provincia a fare fronte unico con i sindaci delle città capoluogo, con i Presidenti delle province, con i parlamentari nazionali e regionali, con il Presidente della Regione Puglia, per interagire con il Governo centrale per la decarbonizzazione della Puglia, aprendo un tavolo di trattativa e di confronto tra i rappresentanti locali, i rappresentanti del Governo nazionale e le aziende Ilva ed Enel. È necessario, si legge nella mozione, partire dal principio che nessun ristoro economico può valere una vita umana. Per questo la provincia di Lecce dichiara guerra al carbone, come richiesto dall'Europa, e invoca la riconversione industriale delle centrali a carbone, mediante la loro trasformazione in centrali a gas, al fine di tutelare il territorio salentino e tutta la sua cittadinanza, specialmente le generazioni future. Dopo il concorso a tema Obiettivo Inclusione, che ha registrato un grandissimo successo in termini di partecipazione con oltre 200 lavori presentati, l'Istituto Tecnico Economico Adriano Olivetti di Lecce torna in campo con una serie di nuove iniziative nell'ambito dell'omonimo progetto realizzato con il patrocinio della provincia di Lecce, della Regione Puglia, del Comune di Lecce e in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale Puglia, l'Università del Salento, la Asla di Lecce, il Comitato Italiano Paralimpico, AXA, Monteco, Human First e Biblioteca Interculturale del Salento. Protagonista anche la casa circondariale Borgo San Nicola di Lecce. Ricordiamo che l'ITES Olivetti è sezione staccata presso la struttura carceraria, con la quale costituisce un'unica e coesa realtà scolastica nel Salento. Le iniziative legate al concorso Obiettivo Inclusione, promosso e ideato da LITES Olivetti per sensibilizzare studenti, associazioni e singoli cittadini sui temi dell'integrazione e dell'inclusività, si snoderanno dal 7 al 21 maggio prossimi. In programma eventi sportivi all'interno del carcere Borgo San Nicola, che coinvolgeranno detenuti, agenti penitenziari, docenti e studenti dell'ITES Olivetti, un Open Day presso la stessa casa circondariale, convegni tematici sugli strumenti dell'inclusione, con esperti e autorità, tra cui il Vice Ministro allo Sviluppo Economico Teresa Bellanova e il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale Mauro Palma. A conclusione della manifestazione, cerimonia finale di premiazione degli elaborati vincitori del concorso. Flavio Briatore punta sul Salento le sue carte e decide di investire nelle spiagge leccesi. Inaugura così per l'estate 2016 un nuovo Twiga Beach a Otranto, con un investimento molto consistente che promette di creare un vero e proprio polo luxury nel Salento. L'idea è quella di inserirsi nel filone della Costa Azzurra e della Costa Smeralda, regno in contrastato di Briatore. Il progetto nasce come lido attrezzato sul costone in riva al mare, autorizzato proprio nell'ultimo consiglio comunale. Abbiamo autorizzato il lido attraverso la disciplina degli accessi al mare, conferma il sindaco di Otranto Luciano Cariddi. Questa previsione del piano urbanistico dà infatti la possibilità di aprire lidi su superfici agricole prospicenti il mare. Per noi il progetto di un lido che offra servizi di qualità è importante, dice il sindaco della città dei martiri, per differenziare l'offerta turistica. Il lido nascerà quindi in località Cerra, proprio di fronte all'omonima masseria che si affaccia sulla costa Idruntina vicino alla Grotta Monaca, una zona di scogliera mista a sabbia facilmente raggiungibile dall'abitato di Otranto. La struttura sarà simile alle altre di Briatore. Ce n'è già una a Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca, una a Monte Carlo e un'altra in Kenya. Avrà grandi tende bianche e musica lounge in sottofondo. Ma non si tratta solo di uno stabilimento balneare, infatti dopo le giornate al mare si potrà andare a ballare fino a tardanotte prenotando un tavolo vicino alla console del DJ, per un costo fino a 10.000 euro a tavolo. Come è noto ai più, i Twiga Beach sono il raduno estivo dei più paparazzati, dai calciatori alle veline, dagli attori alle subrette. Tra fisici mozzafiato e costumi all'ultimo grido, Otranto quindi dalla prossima estate si colora di turismo extralusso. Briatore però non è da solo in questa sua nuova avventura pugliese. Insieme a lui c'è Mimmo De Santis, patron di Sera degli Alimini e presidente provinciale di Federalberghi, l'ingegner Vincenzo Pozzi che è l'ex presidente di ANAS e infine anche i due soci del maestrale, cioè gli imprenditori Gabriele Sticchi ed Emanuele Moscara. Inoltre, secondo notizie di stampa, nei Twiga Beach ogni sei tende c'è un cameriere per soddisfare le richieste del cliente tutto il giorno. Si mangia sotto la tenda come se si stesse al ristorante, regolarmente apparecchiato, una sorta di ristorante sulla spiaggia, rispettando ovviamente le regole. Ai clienti, quando arrivano, è consegnato un set di asciugamani rinnovabile tutti i giorni e sotto ogni tenda c'è una sedia da regista, due sdraio, due lettine e due brandine. Spiaggia mozzafiato, mare blu e trattamento extra lusso. La Puglia del Twiga Beach promette scintille paparazzate per un'estate caldissima. Flavio Briatore ci mette il brand, una sorta di marchio di qualità e comunque un nome che da solo è in grado di attirare clientela da tutto il mondo. Ora non resta a che attendere l'arrivo dei VIP. Porte chiuse e silenzio stampa per Papini e compagni dopo il pesante 3-0 rimediato in casa del Benevento. Il Lecce sceglie la strada della concentrazione in vista del match casalingo con la Lupacastelli-Romani in programma sabato alle ore 16. Nella giornata di ieri Mr. Braglia ha comandato una doppia seduta di allenamenti prima al Via del Mare, poi a Martignano. Hanno lavorato a parte Peruchini e Freddi che ormai proveranno a rientrare nel corso dei play-off. Sabato per la sfida contro i Laziali mancherà Alcibiade squalificato così come dovrà scontare l'ultimo turno di squalifica il tecnico Piero Braglia. Anche oggi pomeriggio allenamento alla Cittadello Sport di Martignano, probabile come ogni giovedì l'arrivo ad allenamento in corso dei tifosi. Gli Ultra del Lecce cercheranno di spronare Moscardelli e Soci a dare il tutto per tutto per la volata finale decisiva. Con la quasi certezza di disputare i play-off l'unica incognita a 90 minuti dal termine della stagione regolare è la posizione di partenza nella griglia degli spareggi da parte dei Salentini. Al momento i giallorossi occupano la terza posizione nel Gerone C, ma l'ultima giornata sarà decisiva. Per confermare l'attuale posizionamento il Lecce deve fare bottino pieno contro la Lupacastelli. Fanalino di coda del torneo retrocessa in D ormai da diverse settimane. I giallorossi devono vincere e con un risultato pieno, non solo per la differenza Reti, che potrebbe sorridere a danno della casertana, ma anche e soprattutto per ritrovare quella linfa vitale giusta per affrontare come si deve questo mini torneo e riabbracciare il sogno della Serie B.